Dopo i successi degli anni precedenti con ospiti come Max Gazzè, Alma Megretta, Francesco Baccini, quest'anno La Notte Bianca di Giulia Nova si rinnova per la quarta edizione e lo fa con nuovi ospiti musicali. Un grande concerto del maestro partenopeo James Senese, che con la sua Napoli centrale farà vivere l'emozione di più di 40 anni di musica sempre all'avanguardia. E ancora Federico Fiumani con i diaframma farà riascoltare le hit che hanno portato la band nel novero delle stelle del rock italiano. Giulia Nova diventa in questa notte dalle 21 fino alle 4 del mattino, l'anno scorso fino alle 6 addirittura facciamo il concerto per salutare l'alba, diventa una grande isola pedonale, non solo il lungomare ma tutto il centro dell'Ido. Quest'anno ci saranno 30 concerti, quindi punti dove ci saranno concerti, iniziative dislocate in tutto il perimetro dell'Ido con circa 100 artisti. Il cartellone è completato da altri 30 concerti e spettacoli di arte varia e tre aree disco con Gianni Schiuma, Larry Maltese, Jack D'Ausbas e Nické con un coinvolgimento di circa 100 artisti tra cui gli allievi dell'Accademia Internazionale di Roma che si esibiranno in Viale Orsini con un avvincente spettacolo di clown. E poi open bar, offerte gastronomiche e tutta la movida della notte giuliese. Ma nel caso in cui sabato 16 agosto ci fosse il cattivo tempo abbiamo già previsto il recupero della notte bianca nel giro di 7-10 giorni e poi comunicheremo la data. Ma io faccio gli scongiuri e spero che Giove Pluvio ci lasci in pace per il 16 di agosto.